14esima edizione di Sposi del Nuovo Millennio e non edizione di Arredile presso il Palacongressi di Montesilvano Fiera Regionale Sposi e Arredamento 17 e 18 novembre Orari di apertura sabato 17 dalle 15 alle 21 Domenica 18 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21 Due giorni di sfilata e non stop Sabato 17 ospite Valeria Romitelli Dal programma Amici di Maria De Filippi Domenica 18 ospite Giosquillo Saranno presenti le telecamere di TV Moga www.sposidelnuovomillegno.it Organizzazione dell'evento Il Girasole